Ciao, sono Riccardo D'Aquino, 19 anni, ho frequentato il corso Ememo, grazie al quale adesso da 170 prora al minuto che leggevo prima ne leggo 945 e capisco anche di più. Poi io insegno robotica e mi ha aiutato molto perché riesco a memorizzare i miei nomi, ho uno schema più preciso della lezione, faccio anche teatro, cinema, doppiaggio e mi aiuta molto anche con la memoria dei copioni. Infatti consiglio a chiunque voglia migliorare la propria memoria, la propria lettura veloce, avere un po' più tempo per se stessi di frequentare Ememo University.